Eccoci qua, cari amici di Meteo Giuliacci, una domenica caratterizzata da freddo. Freddo che insisterà soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Al nord, soprattutto in quota, le temperature aumenteranno. Al suolo, bello, al nord, soleggiato, ma gran freddo al risveglio, gran freddo dopo il tramonto e attenzione alle gelate, al ghiaccio. Guardate invece cosa accadrà sul medio e basso versante adriatico, qualche scroscio di pioggia, qualche chicco di gragnola, sui rilievi dell'Appennino centro-meridionale delle fioccate, qua e là non sono previsti grandi fenomeni, però delle fioccate sino a quote praticamente basse. Qualche goccia possibile, poche per la verità, sulla Calabria, sui rilievi ovviamente qualche fiocco potrà comparire, ma soprattutto sulla Sicilia un po' più settentrionale e occidentale ci sarà della instabilità un po' più vivace, un po' più vivace, mentre sui settori centro-meridionali della Sicilia sereno o poco nuvoloso. Insomma, un'Italia divisa praticamente in due o addirittura in tre, con il grande freddo ancora al centro e al sud, al nord situazione decisamente migliore, ma attenzione, attenzione alle gelate in pianura, le minime andranno ampiamente al di sotto dello zero. Arrivederci.